15 anni fa inizia il nostro sogno, fatto di grandi opportunità e lungimiranza. E ancora oggi abbiamo la stessa curiosità del primo giorno, perché non siamo semplici sognatori. Il sogno, per noi, è solo un punto di partenza per immaginare i grandi progetti da realizzare. Dal 2007 il nostro viaggio è stato pieno di obiettivi da raggiungere, idee da ridefinire e nuove sfide da conquistare. Nel 2007 inizia la nostra produzione di accessori in plastica per il settore truck and trailer. Successivamente, nel 2009, facciamo il nostro ingresso nel settore fire and safety. E nel 2011 nel settore serrature per veicoli commerciali. Nel 2018 ampliamo la superficie complessiva della nostra area di lavoro, con l'aggiunta di un sistema di stoccaggio automatizzato. Nel 2021 lanciamo sul mercato la nuovissima linea in acciaio per veicoli industriali, con una linea di produzione interamente dedicata. Questo è stato possibile perché siamo una squadra che guarda al futuro con coraggio e ottimismo. Solo persone così non hanno mai paura di proiettarsi verso il domani, con radici ben piantate nella nostra terra. Oggi sappiamo essere i migliori compagni di viaggio con la nostra linea di accessori in plastica per il settore truck and trailer e la nuova linea in acciaio ZEN. Abbiamo creato nuovi accessori per la sicurezza e l'antincendio, nel settore fire and safety. E sappiamo anche come proteggere il tuo lavoro con la nostra gamma di prodotti Security Locks. I nostri traguardi sono trampolini per lanciarci verso nuovi progetti. E siamo orgogliosi di aver brevettato i nostri più grandi risultati. Daken è un'azienda certificata secondo le principali norme in ambito di sicurezza sul lavoro, qualità e sostenibilità ambientale. Perché oggi per guardare al futuro bisogna avere anche uno sguardo green. Per questo circa il 95% dei materiali di scarto è destinato al recupero e solo il 5% allo smaltimento. Con il fotovoltaico abbiamo trovato l'energia giusta per lavorare ancora meglio. Infatti la nostra azienda è alimentata da impianti solari che si estendono sull'intera superficie coperta. Siamo orgogliosi di sostenere diversi progetti culturali e sportivi perché restando vicini alla nostra terra e alle persone che la vivono possiamo preservare il patrimonio ambientale, sociale e umano per le generazioni di oggi e di domani. Non ci stanchiamo mai di affrontare nuove sfide. Per questo dalla nostra nascita non ci siamo mai fermati. Anche la nostra produzione continua a proiettarsi al futuro e siamo orgogliosi di poter dire che investiamo sempre in nuove tecnologie e prodotti innovativi e di design. E per raggiungere il massimo della qualità ci concentriamo sui dettagli che possono fare la differenza tra un lavoro ben fatto e il migliore dei lavori. Non abbiamo mai avuto paura del futuro e per affrontarlo al meglio puntiamo sulle persone. Per questo abbiamo investito su figure professionali competenti e affidabili che ci impegniamo a far crescere e in cui riponiamo la nostra fiducia. Da sempre non ci basta essere un buon team ma lavoriamo ogni giorno per essere il miglior team perché ci fidiamo delle nostre intuizioni e sappiamo che lo sguardo di una squadra porta sempre più lontano. Siamo arrivati in più di 60 paesi raggiungendo i cinque continenti. Nel 2022 apre la nostra prima filiale estera a Bruschi in Brasile per essere ancora più vicini ai nostri clienti in tutto il mondo. Ora che conosci la nostra visione del futuro ti invitiamo a seguirci nel nostro viaggio.